Musica Cari amici di Farina e Cucina, in questa puntata, che è l'ultima ma tranquilli, ci rivedremo a settembre, non vogliamo darvi la ricetta di una pietanza gustosa, piuttosto raccontarvi quali siano stati gli ingredienti del successo di un'azienda come il Molino Caputo, il Molino di Napoli, che quest'anno compie i suoi primi cento anni. Musica Questa nostra storia comincia nel lontano 1924, quando mio nonno Carmine col fratello Pasquale stavano negli Stati Uniti dove avevano una piccola attività commerciale ed erano fidanzati con due sorelle di Capua, che avrebbero voluto sposare. Dissero alle ragazze di venire in America per sposarle, i genitori delle ragazze dissero No, se volete le nostre figlie, venne tornate voi in Italia e sposate queste sorelle. Sia il nonno che il fratello decisero di tornare a lasciare all'America e sposare le sorelle Capua. Noi dobbiamo definirci emigranti all'incontrario, perché siamo partiti dal New Jersey, dove loro avevano questa attività. Ricordatevi New Jersey, perché lo ritroveremo fra una novantina di anni il New Jersey un'altra volta. Quindi tornano a Capua, queste sorelle erano benestanti, perché se non avrebbero oltre delle belle ragazze, quindi tornarono dagli Stati Uniti e sposarono le sorelle e acquistano il mulino di Capua. Questo negli anni 22, 23, 24, riparte questa azienda. Purtroppo il nonno Carmine, proprio nel momento clou, in cui, come sta scritto sulla lapida al cimitero di Capua, nell'ante raggiungeva la meta, muore a giovanissime, a 47-48 anni. Mio padre aveva solo, nel 1903, quindi aveva 21 anni. Allora, vogliamo dire che questa nostra storia è anche una storia di donne. È una storia di donne e di separazione. Di donne perché? Nonna Giovanna, che era per l'epoca una donna molto energica e quindi oltre che di buona famiglia, decide, insieme ai figli, erano sette, di cui mio padre era in maggiore e aveva 21 anni, di intraprendere comunque la sfida con questa nuova attività, di questo pastificio con annesso mulino. Quindi parte questa attività che dura per un certo periodo di tempo. finché nel 1939, come in tutte le storie di famiglie, comando io, comandi tu, nascuera una serie di, diciamo, la famiglia era aumentata, tutti insieme, allo stesso posto non si poteva stare. Mio padre, che secondo me già all'epoca fu un visionario, nel 1939, cosa fa? Lascia Capua, si trasferisce a Napoli e nel 17 agosto, il 1939, questo è l'atto originale, compra questo stabilimento e si trasferisce a Napoli con tutta la famiglia. E ripartono con un altro pastificio, questo si chiamava Savino all'epoca. Parte questa attività, quindi in piena guerra, solo un uvazzo, lasciava la tranquilla provincia di Capua per venire a San Giovanni a Teducci in piena guerra e rimettere in moto uno stabilimento con tutte le difficoltà del periodo. Nel frattempo procedono, questa azienda nasce, cresce, tutti quanti collaborano, mio padre con i fratelli e anche con le sorelle, vivono insieme questa avventura napoletana. Io amo anche dire che questa è una storia di donne, come ho detto prima. Oltre a donna Giovanna arriva un'altra donna, Maddalena Montella. È una donna che è come mia madre, che quando io la nomino ancora oggi, mi comuro. Mia madre, insieme a mio padre, quando è arrivata questa donna, nel 1947 nasco io, quindi un anno dopo, decidono, anche qua si ripete la seconda separazione, perché come sempre, comando io, comandi tu, è meglio io, è meglio io, è meglio tu, decide mio padre, spinto da mia madre, decidono di separarsi dai fratelli. Ma tutto questo in tranquillità, in serenità, non con litigi. Quindi riparte questa nuova azienda, mia madre dice a mio padre, non ti preoccupare, ti do io una mano. Quindi è stata una donna imprenditrice, già nel 1947, nel 1950 accade questo. Mia madre diventa donna imprenditrice, abbiamo la seconda donna importante, che è mia madre, che aiuta mio padre. Io da bambino vengo ad avere meno il supporto di mia madre, perché mia madre nel fare questa scelta, di dire, Andi, mi ti do una mano, mettiamoci a lavorare, mandiamo avanti questo stabilimento, chiaramente, la sua attività materna era ridotta, noi figli siamo vissuti prevalentemente come una balia in quel periodo, però oggi ne siamo contenti, abbiamo un grande ricordo di mia madre. Quindi parte questa nuova azienda e negli anni 50 si sviluppa. Abbiamo un altro momento chiave, in cui se mio padre è stato visionario, prima nel 24 e poi nel 39 è doppiamente visionario, perché negli anni 60 decide di demolire il passificio, proprio perché in Italia in quel momento i grandi gruppi industriali, Barilla, Boitone, dilagavano sui mercati, i piccoli passifici artigianali non avevano più motivo di sopravvivere, o investivi e facevi anche tu un grosso stabilimento. Mio padre, altra scelta visionaria, mentre c'era un oceano di mulini dappertutto, facciamo solo il mulino. Demolisce il passificio e cosa fa? Fa un silos da grano, perché in quel momento, fino ad allora il grano si scaricava con le carrette, con i camion a spalla, con le carovane, si metteva... Fa una cosa, diciamo, abbastanza futuribile in quel periodo, fa un silos da grano di 30.000 quintali. E quindi l'azienda riparte verso questa sua nuova avventura con una nuova dimensione. Sono qui da 25 anni, dopo un po' sono diventato responsabile di magazzino, io dicendo da una famiglia, già che lavoravo qua, mio padre, mio zio, mio nonno lavoravano qua, siamo diventati una sola famiglia. Qua, come vedete, hanno le mie spalle, c'è un camion, e noi tutta la giornata ne carichiamo 20-25, è abbastanza responsabilità, perciò me la prendo con piacere, perché la famiglia Caputo merita di tutto questo. Un'altra delle cose che io considero visionaria, e questa è mia madre, sempre una donna, quando negli anni 60 mia madre decide di comprare una macchinetta dove si facevano i pacchi a mano, i pacchi di farina. Io, visionario quanto lei e quanto mio padre, vado da un amico mio che tiene una tipografia, cioè un bravo disegnatore, e disegniamo questa qua, il cuoco, che ancora oggi è al centro del nostro marcio, e diventammo la farina del cuoco. Se avete una terra bianca, perché noi, questa è una cosa che ci ha caratterizzato da sempre, mentre i miei colleghi, i mugnai di vario genere, utilizzavano vari colori, soprattutto per le sacchette grandi, poi di farina, utilizzavano, diciamo, li facevano di carta Havana, perché quelle bianche costavano 18 centesimi in più. Noi invece a un certo punto decidemmo di farle bianche, per cominciare a indicare il valore di questa farina, con un cuoco. Cioè a cosa serve la farina? Serve ai cuochi per cucinare. Sapete chi li faceva questi pacchetti? Mia madre, come ho già detto, ebbe l'intuizione, tutte le signore dei palazzi, cui buona parte erano parenti o mogli degli operai, scendevano durante il giorno, e insieme a mia madre facevano questi pacchetti da un chilo, di cui vi ho fatto vedere l'immagine del cuoco. Questo ha significato cosa? Così come è stato prima nel 24, poi nel 39 e ancora oggi, noi non siamo un'azienda di famiglia, siamo una famiglia-azienda, che è una cosa ben diversa, i cui valori sono proprio questi, che tutti insieme facciamo delle cose. Tant'è vero che oggi raccontiamo, in giro per il mondo, come sa su quel dei plian che noi diamo, insieme si va lontano. Quindi i valori della famiglia-azienda sono fondamentali, perché noi per valori intendiamo i rapporti umani, la qualità delle persone e anche il rapporto con i collaboratori. Negli anni 70 c'è un evento drammatico che caratterizza la vita della nostra famiglia-azienda, l'incendio che avviene a Ferragosto del Mulino che lo distrugge integralmente. Mio padre, traumatizzato da questa cosa, rimane molto perplesso se continuare l'attività o no e a questo punto scatta sempre la donna, mia madre, non ti preoccupare, antimo ce la facciamo. Allo mio padre, dopo molti tentennamenti, avendo che questa è una grande prova di fiducia che ha avuto in me, perché poi negli anni 70 teneva 30 anni, insomma lui ne aveva addirittura 24, quando fece i mulini. E quindi decidiamo di ricostruire il mulino e ripartire con l'entusiasmo di mia madre, le mie giovani energie e ripartiamo con il mulino. La famiglia-azienda continua, ricostruiamo questo mulino e ripartiamo su un nuovo mercato dove abbiamo cominciato a fare le sacchette bianche, abbiamo riportato nei valori, non c'erano più sacche di iuta, c'erano più sacchette di carta. Noi decidiamo di fare le bianche mentre gli altri le fanno la banda per risparmiare. Quindi parta tutto un momento. Dopo l'incendio c'è stato un momento di grande difficoltà e qua c'è anche un'altra donna che io amo sempre citare, che è mia moglie, che mi ha dato una grande mano nel momento più difficile della mia vita, che era pure questo di un'azienda distrutta, grandi difficoltà, non si dormiva la notte i pensieri, le preoccupazioni. La serenità di questa donna mi ha aiutato ad andare avanti e mi ha dato maggiori energie per andare avanti. Quindi continuiamo ad andare avanti, andare avanti, andare avanti, non mi stango di dirlo, perché insieme si va lontano, come ho detto prima, ed è importante insieme. La famiglia d'azienda continua e arriva. A quel punto, dopo la ricostruzione, entra in scena mio fratello Eugenio. Perché non avviene l'altra separazione? Perché mio fratello Eugenio, che era giovanissimo, era ventenni allora, in grande sintonia con me e con grande affetto nei miei confronti, riconoscendo anche le mie capacità e le mie cose, decide, no, noi dobbiamo continuare insieme e dobbiamo andare avanti. Quindi non è accaduta, per i passati, l'ennesima separazione. Io e mio fratello ancora oggi siamo insieme e andiamo avanti. Il mio impegno lavorativo è cominciato nel 1976, quando purtroppo eravamo reduci di un incendio qui a Napoli, allo stabilimento di San Giovanni. Da quel momento è partita questa avventura con mio fratello Carmine, con cui abbiamo condiviso un po' tutta la nostra crescita, tutti i nostri momenti particolari di sviluppo aziendale. Da quel momento abbiamo fatto vari interventi sul mulino. Un primo mulino, poi un ammodernamento che è seguito negli anni successivi. Man mano, man mano, l'azienda è cresciuta e abbiamo sempre di più implementato la nostra produzione, tenendo sempre presente due fattori fondamentali. Uno è la tradizione, perché noi veniamo da una lunghissima storia. E l'altro è l'innovazione. Con l'innovazione abbiamo portato avanti apparecchiature moderne che ci hanno consentito di fare le farine sempre più sane da un punto di vista anche microbiologico, di tutto ciò che riguarda il mondo della chimica oltre che della naturalità. Il mio impegno è stato sempre quello di direttore tecnico, perché mio padre volle che io e mio fratello Carmi ci dividevamo completamente i compiti. Lui si occupava della vendita, del marketing, della finanza, io di tutta la direzione tecnica e della gestione degli operai e della logistica. Con questo binomio siamo andati avanti di comune accordo tra bisticci e chiaramente riappacificazioni ma sempre con un grandissimo equilibrio. Siamo andati avanti negli anni e volevo dire cosa importante per la nostra azienda è stata sempre la ricerca della materia prima perché solo e solamente dal grano è uno slogan che non abbiamo mai abbandonato. È uno slogan per noi fondamentale. Abbiamo fatto sempre ricerche non utilizzando nessun tipo di enzime nient'altro che sia il grano. Abbiamo fatto delle ricerche maniacali in Italia quindi selezionando i migliori grani e anche ovviamente nel mondo per avere dei grani proteici di altissima qualità. Tutto questo ci ha portato a produrre le farine di altissimo valore proteico non solo ma molto molto equilibrate in tutti gli altri valori dall'assorbimento dalle sensibilità creando negli impasti una grandissima soddisfazione da parte dell'utilizzatore perché quando maneggia le nostre farine crea gli impasti è felice e contento perché gli riesce sempre tutto quindi abbiamo aiutato tantissimo i nostri utilizzatori pasticcieri pizzaioli e professionisti abbiamo detto siamo partiti dal New Jersey e migranti all'incontro perché è importante questo New Jersey perché oggi racconto un episodio molto divertente un signore americano proprietario di grandi catene di ristoranti negli Stati Uniti viene in vacanza a Napoli e va in giro a mangiare pizza in ogni pizzeria lui trova la sacchetto della farina caputo con la pizza sopra quello bianco non quello havana tornato in America dice vada da un suo importatore di cose italiane e dice come posso fare per avere la farina caputo veniamo contattati da questa azienda e quindi cominciamo a stabilire i rapporti commerciali all'inizio pensavo di essere presi in giro da un'America mi chiamava per dire posso avere la tua farina all'America mi chiamava per avere la mia farina ho detto questo vuole sfottare a qualcuno e si invece non era se lei vuole la nostra farina la nostra molto semplice io le faccio una fattura pro forma e gliela mando lei fa il bonifico e dopo mando un container a caricare qua comincia a partire l'avventura del signore parte il primo container che oggi grazie alle capacità internazionali siamo tornati nel New Jersey dopo tanti anni e facciamo decine e decine di container al mese che arrivano partono da là e vanno in America l'azienda Caputo oggi esporta in più di 50 paesi nel mondo il mercato più grande è il mercato americano e siamo presenti in gran parte di tutti i paesi europei la nostra farina viene esportata anche in tutti i paesi asiatici e persino alle Maldive e in Cambogia la farina più esportata più venduta è la farina pizzeria ma ad oggi possiamo anche confermare che l'alto vendente è anche la farina nuvola farina per impasti contemporanei questo marchio di riconoscibilità lo si deve insomma ai valori e alla qualità del prodotto che ha fatto sì che la farina Caputo arrivasse anche oltreoceano oggi la nostra azienda è una azienda direi molto articolata si si svolge su vive la nostra azienda su tre stabilimenti Napoli quello storico campo basso quello attuale che abbiamo la nostra ammiraglia produttiva sta nascendo il nuovo sito produttivo di Ripalimosani un luogo dove su 150 mila metri quadri stiamo costruendo il mulino più green d'Europa più sostenibile d'Europa e poi c'è Bergamo dove produciamo il Senza Lutine quindi oggi abbiamo un'azienda che riesce a rispandersi che riesce a vivere i mercati internazionali con grande capacità infatti siamo posizionati in circa 100 paesi nel mondo questo per noi è un traguardo veramente importante negli ultimi anni siamo cresciuti anche sul mondo degli scaffali quindi siamo passati da essere molto presenti nelle cucine italiane e internazionali di tutto il mondo grazie ai pizzaioli e ai pasticceri agli chef abbiamo fatto anche un ulteriore passo stiamo arrivando sulle tavole degli italiani sulle tavole del mondo di chi vuole conoscere il mondo della cucina di chi vuole realizzare la pizza delle ricette la pasta fresca il dolce tutte le ricette dei grandi maestri diciamo italiani quindi stiamo cercando di rendere un'azienda molto completa che gli permetterà di crescere di riuscire a guardare un futuro rosio con grandissime prospettive e grandi opportunità la farina è un ingrediente primario che da sempre caratterizza la gran parte delle ricette culinarie in tutto il mondo eppure negli ultimi cento anni ha avuto una fortissima evoluzione che ha dato la possibilità al mulino di creare tante farine a seconda della destinazione d'uso e le motivazioni principali sono fondamentalmente tre la prima è la grande ricerca in campo agronomico che ha dato la possibilità al mulino di avere accesso a tante differenti varietà di grano per range proteico e performance di panificazione e di impasto con il quale si creano delle vere e proprie miscele dei blend che danno vita appunto a svariati prodotti specifici il secondo non da meno è sicuramente da ricercare nell'innovazione tecnologica che c'è stato nei processi e nei macchinari e il terzo chiaramente è da ricercare negli attori fondamentali del mercato che utilizza questi prodotti a base ovvero artigiani del gusto professionisti grandi chef ma anche massaie e appassionati mi stai chiedendo come vedo il futuro? attraverso gli occhi di mio figlio che c'è stato